Ciao, sono Alessandro, mi alleno con Giuseppe da quattro mesi e mezzo. Ho iniziato questo percorso per ottenere il massimo dal mio corpo, dal mio fisico e sentirmi bene con me stesso. Secondo me, chiunque ha bisogno di sentirsi bene e di, in qualsiasi cosa che fa durante il giorno, quando va a lavoro, o qualsiasi cosa, sentirsi bene con il proprio corpo è la cosa più importante, perché non si deve avere paura di non piacere alla gente e tutto il resto. Giuseppe è un po' come se fosse un amico, non è proprio un personal trainer. Nonostante io vengo da Milano e abbiamo fatto il percorso a distanza, è come se parli con un amico che ti dà consigli e non una figura che sta lì.